Abbiamo alzato la posta, ci si è giocati tutto, anche il futuro dei nostri figli. E adesso, finalmente, ci godiamo quello che ci spetta. Nel vincitore del premio Contafavi 2010. E il vincitore è... Madiroz Pertolossi! Lose it away, burn it on fire, baby, I'm talking all right, but I'm feeling like nothing at work. Lose it away, burn it on fire, baby, I'm talking all right, but I'm feeling like nothing at work. Lose it away, burn it on fire, baby, I'm talking all right, but I'm feeling like nothing at work. Feeling like nothing at work. Grazie a tutti.